In un mercato in continua evoluzione nasce per me professionista e per te professionista Compacta Vario 8 Chef, una tecnologia di high steam. Noi professionisti lavoriamo con materie prime nobili, burro, uova, zucchero, panna ed è fondamentale ed importante dare al consumatore finale un prodotto altamente qualitativo, un prodotto che rispecchia le esigenze di questo mercato. Per cui iSteam viene incontro a me e a te creando questa nuova tecnologia, creando questa Compacta Vario 8 Chef che nasce come macchina per gelateria ma ben si adatta e si adegua a tutte le ricettazioni di pasticceria. È importante parlare appunto della tecnologia, quindi abbiamo a disposizione due vasi, uno per la cottura e uno per il raffreddamento e mantecazione. La cosa importante e fondamentale è la presenza degli inverter che agiscono sulla velocità e questo è importante. Ci sono otto tipi di variazioni di velocità per cui facciamo anche degli esempi abbastanza concreti per capire a cosa servono. In una crema pasticcera, in una ganache, nella fase di cottura e di miscelazione degli ingredienti ho bisogno di una velocità che incomincia ad essere una velocità che mi serve a creare la perfetta emulsione dei grassi e miscelazione dei diversi ingredienti, ma nella fase di estrazione del prodotto ho bisogno di una velocità minima che quasi accarezza il prodotto, che mantiene questa bella palatabilità che poi devo sentire al palato, quindi una bella lucentezza anche del prodotto. Quindi è studiato fondamentalmente per dare ciò che io professionista voglio dare al mio consumatore finale. Nella parte inferiore la presenza dell'inverter che agisce sulla potenza frigorifera, fondamentale anche per il risparmio energetico perché posso lavorare quantità minime e massime. Per il gelato posso lavorare da un chilo e mezzo fino a massimo otto chili, per la pasticceria da due chili e mezzo a sei otto chili, in base alle preparazioni che vado a realizzare. Ma la cosa importante è appunto la presenza di questo inverter che mi dà la capacità anche di risparmiare, risparmiare quindi in energia e risparmiare in acqua in base alla ricettazione, in base al quantitativo di ricetta che vado a realizzare. Nella parte superiore abbiamo a disposizione due tipologie di agitatori, quindi un agitatore appunto per il mondo della gelateria che va a miscelare le nostre diverse preparazioni, per il mondo della pasticceria è stato studiato un apposito agitatore che non è solo del metallo messo a caso, però c'è un concetto di studio che iSteam fa principalmente sulle materie prime, sulle diverse preparazioni, perché ognuno di noi ha delle creme diverse, ognuno di noi ha delle ricette diverse, quindi Compacta Vario 8 Chef deve venire incontro a tutti noi professionisti e si deve adeguare e adattare alle nostre diverse ricettazioni. Quindi anche la forma è importante per mantenere quelle che sono le caratteristiche di tutte le preparazioni. Detto già precedentemente cosa voglio avere da una crema pasticcera che sia bella, setosa, lucida, cosa voglio avere da una crema ganache ad esempio, che abbia una bella struttura e che non abbia incorporazione di bolle d'aria perché altrimenti in una ganache so dell'aria all'interno introdotta nella struttura quest'aria che è uguale ad ossigeno si lega agli acidi insaturi e crea ossidazione nei nostri prodotti, quindi è importante usare una tecnologia che ti dà qualità del prodotto. Un'altra tecnologia importante è il pistone che mi permette, una volta cotto le diverse preparazioni, trasferirle nella parte inferiore per il raffreddamento o la mantecazione. Una cosa importante, il movimento lo faccio vedere appunto con una mano, nel momento in cui voglio fare delle preparazioni particolari, ad esempio delle confetture, delle marmellate e voglio avere l'estrazione laterale molto semplice perché posso fare questa operazione e il prodotto viene mantenuto con le perfette caratteristiche, ad esempio un prodotto con dei pezzi di frutta, quindi andiamo sempre ad agire sulla qualità del prodotto. Con Compacta Vario 8 Chef, 21 cicli automatici più 5 personalizzabili. Ora andiamo a realizzare una prima ricettazione, la nostra crema ganache. Molto semplice, andiamo a scorrere le ricette. Crema ganache, carica media, in questo caso facciamo una carica media del prodotto. La macchina mi segue, quindi mi indica versare gli ingredienti andando a realizzare una ganache per congelamento che si può adattare ad un semifreddo ma anche ad una variegatura del gelato. Abbiamo introdotto la panna insieme a del destrosio e a dello sciroppo di glucosio. Quindi premiamo ok, inizio cottura, la Compacta Vario 8 Chef incomincia a cuocere. Possiamo notare i parametri, la temperatura reale del prodotto, la temperatura impostata e la velocità. Tutti i cicli sono modificabili e personalizzabili in base alle esigenze di ogni operatore. Aggiungiamo il cioccolato. La macchina ci indica tutto quello che dobbiamo realizzare. La macchina ci segue nella ricettazione. Due minuti e 16 di miscelazione per emulsionare perfettamente la nostra crema ganache e quindi man mano ci porta a braccetto fino a realizzare, a terminare la ricetta. La Compacta Vario 8 Chef, a questo punto si dice trasferire il prodotto, poi premere Go. Mediante il pistone regolabile apriamo parzialmente, premiamo Go. La Compacta Vario 8 Chef ha iniziato la fase di raffreddamento. Quindi in macchina il prodotto ha 52 gradi, in una prima fase dobbiamo arrivare a 50 gradi con una velocità 4. Estrazione, quindi la nostra crema è terminata, andiamo ad estrarre il nostro prodotto. Dopo due minuti e due minuti, vediamo. Grazie a tutti